Questo libro l'ho scritto, badate, perché, vabbè, una cosa si potrebbe dire, adesso ero qui con il mio vecchio amico, il compagno, il Duccio, parlavamo di tutte le disgrazie del mondo e delle disgrazie della sinistra e allora mi è venuta anche voglia di scrivere un libro invece sull'amore, su queste disgrazie, o perlomeno di un'epoca in cui le disgrazie si sono accompagnate anche però a grandi passioni, i grammi sono stati associati a grandi passioni e ho raccontato queste tre storie che sono storie di persone che io ho incrociato nella vita e che me le hanno raccontate loro, in questo senso le racconto perché sono loro stessi i protagonisti che ho avuto un modo in circostanze particolari, tutte e tre sebbene dislocate diversamente nel tempo, a raccontarvele e sono storie badate, insomma, volete che ve la dica anche così? Stufa di sentirsi sempre parlare soltanto del comunismo come errori ed orrori, non che non ci siano stati, per carità, mi è venuta voglia di raccontare gli amori dei comunisti che sono stati drammatici anche perché la vita di tanti comunisti è stata drammatica grazie 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 grazie